Uno dei simboli più significativi del Natale casentinese è senz'altro il presepe artistico che si fa ogni anno all'interno della chiesa di San Michele, del piccolo paese di Lierna, un paese del comune di Poppi che si trova sulla strada, sull'antica strada che porta a Camaldoli. A farlo sono alcuni degli abitanti di questo paese, tra cui appunto Piero Cavigli e Gino Orcheritti che sono qui con noi. Piero, dicevamo un presepe storico, un presepe che ha dietro un lavoro notevole, più di un mese di lavoro. La particolarità di quest'anno, il tema che ha dato origine a questo presepe di quest'anno? Il tema di quest'anno si doveva fare, ispirato dal Medioevo e per l'occasione abbiamo ripreso l'antico castello di Romena che rappresenta un po' la valle dell'Arto Casentino. Ci sono delle particolarità in questo presepe di Lierna, molti sono visitatori anche per questo, per esempio è realizzato con le pietre che vengono da ogni parte del mondo, quindi molto significativo poi quest'anno. Sì, state portate a Gino da varie persone in giro per il mondo, tutte le volte che un amico suo va in giro e gli dice, che cosa vuoi Gino? Portami una pietra e dopo dura dopo per il presepe. Poi quest'anno è questo simbolo della natività, quindi la capanna di Gesù Bambino messa proprio in primo piano. Sì, quest'anno a differenza degli altri anni abbiamo voluto proprio mettere in evidenza, in risalto proprio la natività, facendo una capanna molto più grande degli altri anni, insomma, dove la persona che entra deve vedere prima quello e poi tutto l'altro. Si può venire tutti i giorni e quando uno arriva, se la chiesa è chiusa, giù all'ingresso c'è la prima casa che si trova, uno suona il campanello e Gino viene a aprire. Bene, da Lierna, dalla chiesa di San Michele, che è una chiesa del mille, da una delle chiese più significative dei piccoli paesi di montagna del Casentino, noi vi salutiamo e vi auguriamo con Piero Cavigli e con Gino Orcheriti, che sono due degli autori di questo splendido presepe, un sereno Natale. Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti i nostri spettatori,